Parte ad Ostuni anche il progetto Digital Champions, è stata scelta la sua persona per coordinare questo progetto, però nei dettagli di che cosa si parla? Il Digital Champion è una carica che è stata istituita in Europa nel 2012 e che Riccardo Luna ha voluto per tutti gli 8.000 comuni italiani, quindi ho presentato la candidatura e per il Comune di Ostuni sono stata nominata direttamente dall'associazione Digital Champion. Il Digital Champion è un volontario e deve essere inteso assolutamente come una risorsa della comunità in questo senso, quindi a servizio della comunità cittadina, ma deve vivere di rete e deve vivere in rete. Per cui deve mettere insieme tutti gli attori che sono necessari, la pubblica amministrazione, enti vari, le scuole, le associazioni, per aumentare il livello di digitalizzazione del cittadino, sensibilizzare, promuovere iniziative. Quindi ti aspetta un bel lavoro adesso? Decisamente sì, ma davvero immediatamente abbiamo voluto in una conferenza stampa congiunta, anzi ne ringrazio il sindaco Gianfranco Coppola, perché questo significa che già oggi con la conferenza stampa noi muoviamo i primi passi nella direzione giusta, cioè quella di farmi svolgere la funzione che devo svolgere, cioè quella soprattutto di ascolto e poi di promozione e sensibilizzazione. Qual è il prossimo passaggio dopo la conferenza stampa? Immediatamente un tavolo di lavoro che ho chiesto al sindaco con degli attori che abbiano voglia di impegnarsi sul digitale e di costruire per la città un progetto di innovazione. E poi come azione immediata dal 15 di gennaio al 15 di febbraio i genitori della nostra città saranno coinvolti nell'iscrizione online e quindi cercare di trovare gli strumenti adeguati per poterli sostenere e aiutare nell'iscrizione online. Il livello di digitalizzazione dei cittadini è ancora molto basso in Italia. Grazie. Grazie.